l'incantevole genesi del porto La Libertad sull'istmo. Nel tessuto della storia, in tessuto con i fili dell'ambizione e del romance marittimo, il porto La Libertad emerge come un gioiello incastonato tra l'abbraccio senza tempo di Punta Roca Partida e la Grazia di Chilamat. La genesi di questo porto costiero si svela nelle pagine del destino, incisa con la penna di un decreto federale in un giorno fatidico, il 24 febbraio 1824. Sotto lo sguardo benevolo di madre natura, la piantagione Tepeo ha acceduto con grazia la sua terra alle mani trasformative del progresso, dando alla luce l'incantevole Porto La Libertad. Un decreto del congresso federale delle repubbliche dell'America centrale ha orchestrato questa metamorfosi, preparando il terreno per un legato marittimo che avrebbe risuonato attraverso i corridoi del tempo. Menmano che i giorni baciati dal sole avanzavano, la grandiosità di Porto La Libertad ha raggiunto un culmine il 10 febbraio 1831. Con echi gioiosi che risuonavano, è stato ufficialmente unto come uno dei porti distinti che ornano le rive del Pacifico dell'Istmo. Questo momento cruciale, simile a un'uverture marittima, ha srotolato le vele dell'opportunità, aprendo una nuova era di commercio estero che avrebbe risuonato in tutta la regione. Il racconto marittimo ha continuato a evolversi, con un decreto federale il 19 gennaio 1835, lanciando Porto La Libertad sul palcoscenico come il principale porto registrato in El Salvador. In un passaggio simbolico del testimone marittimo, ha elegantemente sostituito il prestigioso porto di Acaiatla, diventando il battito marittimo della nazione. Infine, nel giorno propizio del 19 febbraio 1835, le porte del Porto La Libertad si sono aperte cerimoniosamente, come decretato dal Congresso federale delle Repubbliche dell'America centrale. Il porto, testimone di resilienza e maestria marittima, ha intrapreso il suo viaggio per incidere il suo nome nelle cronache marittime dell'America centrale. Aggiungendo un tocco di fascino marittimo a questo tessuto storico, i libri di registrazione rivelano un dettaglio affascinante. L'8 gennaio 1854, la prima nave a vapore, battezzata, Primero, ha abbellito le rive di Puerto La Libertad. Carica di 225 tonnellate di merci, questo pioniere nautico ha forgiato un legame marittimo, collegando i porti dalle assolate coste della California all'abbraccio tropicale di Panama. Nella danza ritmica delle onde e nei sussurri delle brezze marine, Puerto La Libertad è più di un porto.